Ciao ragazze, allora questo è un video veramente minuscolo, lo so che lo dico sempre ma questa volta è vero è un video perché vi volevo fare gli auguri di buon Natale e di un buon 2011 stanotte appunto è il 24 quindi domani sarà il Natale spero di riuscire a caricare il video oggi, forse domani, probabilmente domani che è il 25 e niente ragazze, come vedete sono in tema natalizio ovviamente, con l'albero, tutti i regali e cosa vi volevo dire, vi volevo dire che se volete continuate ad iscrivervi al mio canale che vi fa veramente molto piacere, qui sopra c'è il pulsantino scriviti se volete potete anche cercarmi su Facebook, sono Princess Mononoke, comunque c'è sotto, metto il link al programma di Facebook questo è tutto, un bacio e grazie al mio cameraman, Giulio, ciao!